Rabbia e intensità, quelli che serviranno domani al Teramo, al Barbetti di Gubbio per riconquistare i due punti persi mercoledì pomeriggio contro la Pistoiese. Partita giocata molto bene, una delle migliori anche per Federico Guidi che però non ha portato a casa il risultato pieno. C'è rimasta la consapevolezza di aver dato seguito alle prestazioni precedenti e tanta rabbia da sprigionare domani per una vittoria che ci è sfuggita ma che avremmo meritato sul campo. Quindi ci portiamo dentro tanta motivazione per cercare di riprendere quei due punti che abbiamo lasciato per un episodio mercoledì. Gestione delle risorse, delle forze fisiche, Jacoponi e soprattutto Soprano che ha giocato spesso in questo 2022 sono a rischio infortunio e allora la loro presenza andrà centellinata e studiata per bene. Le sollecitazioni sono state tante, c'è stato tanto dispendio energetico e dobbiamo valutare ogni singolo in maniera ottimale. Faccio un esempio, Jacoponi ha fatto una partita e mezzo e non giocava da un anno, Soprano ha praticamente giocato ogni minuto, così come Arrigoni e Rossetti. Quindi su ogni singolo dobbiamo fare delle valutazioni attente per non andare a incorrere a degli infortuni che in questa fase manca poco alla fine del campionato e quindi poi c'è anche poco margine di recupero e quindi non dobbiamo assolutamente sbagliare le valutazioni. Probabile anche una nuova collocazione di Lorenzo De Grazia, provato trequartista dietro le due punte che domani potrebbero giocare entrambi sia Bernardotto che D'Andrea. Su Lorenzo stiamo provando a farlo entrare nelle nostre dinamiche di gioco anche facendogli occupare più spazi. È vero che in un centrocampo a due Lorenzo è sacrificato e non è il suo abito naturale, ideale per farlo esprimere al meglio. Guidi rifiuta però l'etichetta di Teramo squadra da trasferta anche se al Barbetti di Gubbio il Teramo può dare seguito ad un inizio 2022 lontano dal Bonolis finora. Molto positivo. È una casualità, nel senso che noi l'interpretazione delle gare cambia poco, noi cerchiamo di vincerla la partita. Qua le prestazioni, io penso che le prestazioni più belle le abbiamo fatte in casa, mi riferisco a Vispesoro, all'andata, con la Pistoiese, col Gubbio stesso. E sul campo la squadra meritava di vincere in maniera proprio netta. Poi ci sono i portieri che fanno le parate, ci sono gli errori magari sotto porta. Quelli ci hanno precluso di avere quei punti in più che ci avrebbero proiettato in una classifica estremamente diversa.